Masci, avete pronto un ricorso alla Corte dei Conti per quanto riguarda la riqualificazione della Riviera Sud di Pescara? Perché? La maggioranza con delibera 536 del 2014 ha annullato l'appalto della riqualificazione della Riviera Sud. Ovviamente lo ha fatto in maniera illegittima, non c'era un titolo per farlo perché l'appalto era stato già giudicato. Sicuramente la ditta giudicataria, che è una ditta cogepri abruzzese, farà ricorso e quindi ci sarà sicuramente una responsabilità dell'ente e un danno errariale. Questo danno errariale non lo dovranno pagare i cittadini pescaresi, ma questo danno errariale che viene fuori da un atto illegittimo lo dovranno pagare gli amministratori che si sono resi responsabili di questa scelleratezza. Noi ovviamente lo abbiamo già detto perché li abbiamo avvertiti, li abbiamo scritto dicendo che avremmo agito alla Corte dei Conti per fare in modo che questa situazione venisse evidenziata. Non ci hanno ascoltato, nessuno ci ha ascoltato. Non si può scherzare con i soldi dei cittadini, l'importo è un importo notevole e quindi queste situazioni che oltretutto comportano l'eliminazione della riqualificazione della Riviera Sud. Un atto importantissimo che sarebbe stato il completamento di quell'intervento già fatto e che oggi sicuramente è sotto gli occhi di tutti come miglioramento della condizione di vita e di vivibilità di quella zona. Proprio l'altro giorno in una conferenza stampa la maggioranza ha detto che non ci sono i soldi per pagare le opere pubbliche perché sono stati aperti troppi cantieri dall'ex maggioranza al Comune di Pescara. Lei cosa risponde? Io dico che intanto la maggioranza attuale comincia a fare la maggioranza, comincia a lavorare perché la campagna elettorale è finita, perché oramai non sono più in opposizione questi signori e quindi devono dimostrare quello che sanno fare. Ovviamente l'allarme non esiste, confondono con un minestrone incredibile la competenza, la cassa e il patto di stabilità.